All'ormai imminente Gola Gola Festival, i piacentini potranno trovare l'ennesimo prodotto dei nobili fini dell'associazione locale oltre l'autismo. È la sportula veleiate che sarà distribuita presso lo stand messo a disposizione dagli organizzatori in piazzetta pescheria durante i tre giorni della manifestazione. Circa un migliaio le sportule realizzate che si potranno avere con un'offerta di 15 euro. Ognuna di esse contiene tipicità piacentine, un salame del salumificio La Rocca, un vasetto di miele degli apicoltori piacentini e i biscotti della pasticceria Groppi a base di farro, orzo e miele che richiamano la forma delle colonne del teatro antico di Veleia Romana. Il ricavato andrà dunque a pieno sostegno dell'associazione oltre all'autismo e della sua casa di vita. Nell'associazione attualmente sono un'ottantina le famiglie iscritte e che seguiamo. Attualmente stanno arrivando tantissimi bambini in nuova iscrizione di bambini piccoli proprio. Le famiglie vedo che si stanno aprendo, stanno affrontando con molta forza e coraggio questa nuova avventura che le è capitata nella vita e quindi per noi è importante oggi essere attivi sul territorio, sensibilizzare tantissimo per far comprendere quanti sono i ragazzi che hanno bisogno, l'aumento che c'è in continuo, veramente c'è un'escalation. Tutte le risorse che noi ricaviamo vengono investite in educatori, in persone che accompagnano i nostri ragazzi. Importante è anche il grosso progetto della casa di vita, perché è importante, perché ad oggi non esiste una risposta su tutto il nostro territorio. È un grossissimo progetto a livello provinciale per dare una risposta di residenzialità alle famiglie e ai ragazzi.